Cresce l'attesa per la seduta monotematica del Consiglio regionale prevista per martedì prossimo dedicata all'emergenza lavoro. Rabbia, disperazione e sfiducia si registra tra le migliaia di lavoratori a rischio, mentre il sindacato sprona la politica a trovare soluzioni adeguate e tempestive. Intanto finalmente, perché una seduta monotematica sul lavoro l'abbiamo chiesta, più di uno, perché noi non crediamo che in una sola seduta si possa affrontare l'emergenza lavoro che finora non è stata assolutamente affrontata. Saremo lì presenti, saremo lì presenti con i lavoratori che stanno vivendo momenti drammatici. Quali sono le vertenze ancora aperte? Alcune paradossali come quella della Biblioteca Albino dove sembrava tutto a posto e invece ci rendiamo conto che dopo gli annunci politici di aver risolto non si è risolto niente. Abbiamo Corai, abbiamo Molise dati dove la governance continua a guadagnare più di 300 mila euro l'anno, mentre invece gli ingegneri sono ancora fuori dall'azienda. Abbiamo tutto il comparto del commercio, abbiamo il comparto della vigilanza, abbiamo l'oggi service che lavorava fino al 31 di dicembre al pastificio La Molisana e si è aggiunta anche questa vertenza nell'assenza totale della politica. Ne abbiamo tantissime di vertenze, abbiamo tutto il settore della sanità dove dobbiamo capire. Crediamo che in un solo giorno non sia possibile affrontare l'emergenza lavoro, soprattutto se non deve essere un incontro sterile, perché da questo incontro noi ci aspettiamo da questo Consiglio regionale che escano proposte, soprattutto soluzioni immediate, non da valutare o da riaggiornare o da comprendere ancora, perché qua i lavoratori non hanno più niente da comprendere, sono alla fame. Ma quanti sono i posti di lavoro a rischio? Assolutamente sono migliaia e migliaia. Teniamo presente che Gamma, l'azienda più grande del Molise, ancora ad oggi non si capisce bene che cosa è successo, ma poi abbiamo l'ITR, che anche questa ha una grande vertenza eppure su questo dobbiamo capire effettivamente la regione Molise che soluzione ci pone e che cosa davvero c'è nell'accordo di KF. E poi ce ne abbiamo tante altre, abbiamo tutto il comparto dell'edilizia. Vogliamo capire se la ricostruzione in questa regione esiste davvero? Questa classe politica in alcune vicende ci ha dimostrato che da un lato ci dice tutto a posto e poi dopo i tecnici invece dicono che non è così. Quindi io credo che la gestione di questa classe politica dell'emergenza lavoro sia inadeguata. Lo vogliamo vedere però con i fatti, vogliamo ancora una volta sperare che questa cosa si possa in qualche modo risolvere, perché ad oggi la protezione civile sembrava essere anche questa risolta e invece non è così. La formazione professionale sembrava che si era trovata la soluzione, invece oltre a soltanto di cassa integrazione si sta parlando in questa regione, ma di rilancio vero o di fare qualcosa di vero, io onestamente vedo che non si sta facendo. È l'ultima spiaggia. Questa di martedì il Consiglio regionale sul lavoro è l'ultima spiaggia. Noi pretendiamo risposte. La speranza è sempre l'ultima a morire, ma come recita un vecchio adagio, chi di speranza vive, di sperato muore.